L'educazione al bere responsabile tra le lezioni dell'orario scolastico degli studenti dell'ultimo anno dell'alberghiero. È l'iniziativa lanciata da Fondazione Birra Moretti con Responsibility in Education, progetto partito a marzo 2022, che punta a formare gli studenti del quinto anno, futuri professionisti dell'oreca, anche sui temi del bere moderato e consapevole. L'educazione può essere uno strumento potente per trattare i temi del consumo responsabile se trattata con un linguaggio appropriato, fresco e anche stimolando il dialogo fra pari. Il progetto consiste, oltre che una lezione in aula, anche di una piattaforma che può continuare a mantenere acceso l'interesse in quest'ambito, che non è un ambito facile, ripeto, da toccare, toccandolo, inserendolo all'interno di un contesto professionale. Realizzato in partnership con l'Aspi, l'Associazione Sommelierie Professionale Italiana, e col patrocinio di Regione Lombardia, il progetto nel primo anno ha coinvolto dieci istituti alberghieri tra Lombardia, appunto, e Puglia. Si tratta di circa 750 ragazzi del quinto anno, che insieme ai docenti hanno aderito alla proposta educativa della Fondazione Birra Moretti, in cui la lezione di un'ora in aula è solo una parte del progetto. Il progetto è strutturato principalmente in due fasi. Abbiamo una fase formativa in aula, dove i docenti e noi, grazie anche alla collaborazione, con l'Aspi, l'Associazione Sommelier Professionale Italiana, andiamo a tenere e a trasmettere queste informazioni ai ragazzi. Terminata la fase formativa in aula, i ragazzi hanno la possibilità di accedere ad una piattaforma esclusiva, dove hanno dei contenuti ovviamente molto incentrati sul consumo responsabile, ma anche sulla cultura birraria e in più anche dei contenuti sulla loro formazione menageriale. Attraverso questo percorso, che nel 2023 includerà una serie di podcast anche col supporto di influencer, la Fondazione Birra Moretti punta a tenere viva quella cultura del bere consapevole, intrinseca nella nostra tradizione alimentare, che vede la birra ancora oggi consumata per l'80% durante i pasti. L'Italia ha adottato la cultura birraria e l'ha plasmata partendo dalla propria cultura alimentare, e questo in effetti è un elemento facilitatore, ma soprattutto è una cultura, quella italiana, che evita tendenzialmente gli eccessi. Questo qui è un punto di partenza importante, ma non dobbiamo perdere queste caratteristiche, per questo questo progetto di Responsibility in Education si rivolge agli operatori del settore. Futuri operatori che grazie alla formazione potranno diffondere questa cultura anche laddove si determinano le tendenze, ovvero nel mondo del fuoricasa, e i primi risultati di questo progetto sono incoraggianti. Noi abbiamo avuto un riscontro molto positivo dai docenti e anche dai ragazzi. Abbiamo trovato molta apertura, molto interesse, le esperienze personali, ovviamente anche dai ragazzi, sono state molto importanti proprio per sviluppare al meglio anche le lezioni future. Per l'anno prossimo sicuramente amplieremo le scuole coinvolte in queste regioni e ci amplieremo in nuove regioni. L'obiettivo per il 2023 è quello di coinvolgere 4.000 ragazzi, una fetta importante dei circa 20.000 che si diplomano ogni anno negli istituti alberghieri italiani.